Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gian Natasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla variante di Valico a causa di materiali dispersi rallentamenti in direzione Roma tra il Bivio a 1 variante e Firenzuola. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!